Quale è la tua scuola? A rapportarmi con gente più grande e più preparata. Ok, meno di una settimana al campionato, quali sono le sensazioni? Salve Presidente. Sensazioni buone, speriamo di sordire bene. Sicuramente molto positive, tanta voglia di fare bene sia noi che tutta la squadra. Gioco sui compagni, un aggettivo per ogni compagnolo in squadra, allora, daro orgoglio. Steph Curry, sì, concordo, Steph Curry. Peppone Lombardo. Dominante. Peppone è difficile, è leader. Gianni Travisano, il capitano. È un grande capitano, sì, sì, grande capitano. Giorgio Biondo. Direi una cosa però che qua non lo posso dire, comunque, un altro grande capitano. Puzzolente. Simone Vitale. Un cucciolo, sì, sì, cucciolo, cucciolone. Fabio Bontampo. È un grande, un simpaticone. Un grosso. Sex Symbol. Antonio Fazzo. Antonio Fazzo, un credente. Sì, sì. È praticante pure, è praticante. Davide Cacciavillani. È il bomber, è il tiratore. Potentone. Un aggettivo sull'altro. Massi, è un grande centro che stoppa a Lombardo ogni allenamento. Lupo, un grande tiratore. In salute ai tifosi prima di iniziare il campione. Auguro a tutti i tifosi di avere una bella stagione e soprattutto di venire a Tifare. Sì, sicuramente di venire soprattutto contro Cefalù, dove sordiamo in casa, con questo sordiamo in casa, di venire numerosi. Un saluto all'altro. Però Massi, è un grande. Ci siamo scordati i tagliarelli. Anche Jovic. Jovic? Jovic non ci sono aggettivi. È vero, non ci sono troppi, troppi, troppo. Taglia? Taglia in posta e dominante. Taglia, cosa dobbiamo dire? Quello che vuoi è bello. Ok, grazie.